ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi ed eccoci qua con un'altra puntatella dedicata ai vostri orologi ai vostri simpatici pezzi di ferro con gli ingranaggi dentro le molle tutte quelle cose le stanghette piccoline che non sappiamo a cosa servono ma che tutte messe insieme ci restituiscono poi miracolosamente l'orario come si fa? molle? pezzi di ferro piccolini? come fanno a dirci che ore sono? e lo fanno ci riescono è questo che mi affascina a me ma penso anche a voi degli orologi meccanici il fatto che siano completamente privi di qualsiasi foglia forma di energia elettrica che li pervade cioè solamente con la forza cinetica della forza di gravità diciamo anche se no ma funzionerebbero anche senza forza di gravità funzionano senza forza di gravità forza cinetica diciamo la molla che si espande all'interno del bariletto rilascia l'energia meccanica necessaria for muovere insomma vabbè dai mi sto un po' comunque detto questo ci fa piacere ci fa piacere perché vediamo gli orologi nuovi vecchie di tutti i tipi che poi possono ispirare la nostra collezione o perlomeno il percorso verso la nostra collezione che non finisce mai la collezione non finisce mai nel momento in cui dovesse finire si avrebbe un morto in più sulla coscienza cioè quella famosa scimmietta che avete sulla spalla in quel momento lei dichiarerebbe decesso proprio veramente non vogliamo noi siamo animalisti non vogliamo fare del male a questi poveri animaletti queste scimmiette e quindi cerchiamo di progredire di andare avanti anche se non ci servono andiamo avanti proprio è come un tamagotchi bisogna sfamarla quindi compriamo orologi compriamo rubare no comprateli detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è qualcosa di differente l'ho tirato fuori per un po lo voglio indossare è il mio bellissimo orient maco da 40 mm quello con la ghiera color acciaio gli ultimi usciti senza spalletti di protezione corona quelli che hanno un pochino più di appeal nei confronti degli appassionati appeal perché sì perché è completamente differente dagli altri maco 2 3 4 5 che siamo abituati a vedere no misura contenuta bello 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 forse un po spessino è un po spessino per i 40 mm che ha però 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 il polso sta bene per me pare che sta bene sta bene no se detto questo dai ditino inquisitore è pronto per giudicare i vostri orologi anche anche il vostro percorso proprio veramente è un ditino moralista cioè è la polizia degli orologi questa la polizia degli orologi quindi andiamo guardiamo il video il primo dai guardiamo su ciao davide ciao il tempo mi chiamo salvatore sono siciliano e sono da sempre un appassionato di orologi bravo parto subito parto con l'orologio del giorno eccolo lì che è l'ultimo arrivato in collezione ballassai questo bellissimo long in legend diver 39 mm calibro l 888 certificato cosco bravo qualità costruttiva incredibile vorrei precisare che non è certificato cos che certificato cronometro da un altro laboratorio non dal cos che attenzione sono sottigliezze ma è meglio precisare per non incappare no poi dopo nel lettino inquisitore non è così non è così questo è il regalo della mia futura moglie mi è stato spedito sebbene che abita all'estero dalla gioielleria pasquali dominici a pesa po dominici e poi me raccomando dominici non domenici come potrebbe dare la vita questo controllo del tuo accidenti che la micro regolazione interna stronti essendo l'ultimo modello ma non fregato altro orologio che già si intravede è questo bellissimo g-shock bellissimo è un orologio che utilizzo giornalmente bravo soprattutto perché faccio tantissime attività sportiva quindi lo utilizzo per prendere i tempi o quando viaggio passo inosservato da poco nell'occhio ha una funzione bellissima molto utile cioè quella di poter assettare diversi fusi orari ah beh allora si fa comodo usalo io non lo userei mai e poi male orologio che ho da tantissimo in collezione è questo lanco l'ho redditato da mio nono totò totò ai piccoli secondi la data placcato in oro e come potrai notare non ha né il cinturino né la corona originale e vabbè per un periodo ho pensato di cambiare anzi di far ristampare il quadrante però perfetto così riflettendoci mi piace pensare che come me l'ha lasciato mio nonno e no va bene così lascialo così perfetto stupendo ulteriore orologio vintage questo mega del 1966 se tutti in oro è bello questo anche qui non c'è la corona originale e anche qui ho cambiato il cinturino e ci sta da cinturino e corona non sono il tuo forte sono molto legato perché è stato il primo orologio che ha comprato il primo orologio costoso di valore che ha comprato con i miei risparmi bravo così ti voglio un guanto sì uno no ulteriore orologio che ho in collezione da sempre questo seco 5 simpaticino anzi questi seco 5 bravo due uno è famoso explorer ce li ho dai tempi dell'università come si nota ho cambiato i barciali e cosa c'è entrambi bravo ho messo il giubbili qui è una specie di presidenzial 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 sebbene siano degli orologi che comunque siano economici li utilizzo ancora adesso ma certo se si utilizzano gli orologi anche se sono economici continuo con i seco come dura chiero 6 alpinist ecco bello l'alpinist ho pensato di prendere questo col quadrante panna perché devo essere sincero quello verde non iconico mi piaceva non mi faceva impazzire ho capito ma bianco va bene da carino da te lo promuovo ho montato questo cinturino messo questa pelle è un po di brio ragazzi che poi un orologio che utilizzo spesso tutti spesso è adatto a ogni occasione sostanzialmente calibro 6 r35 pausa silenzio altro seico altro alpinist in realtà altro calibro 6 r35 mi piace forse mi piace più questo sai qui la qualità costruttiva è molto buona molto buona e basta ti allarga troppo porto qualità prezzo di sei qua gigante incredibile pause pause su pause non si sa bla 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 ti posso affidare in mezzo quando dire quello che voglio bla 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 pause pausa pausa ulteriore seco vai diver baby toon al tonnetto siamo sempre nella linea prospects pausa il libro 6 r35 anche anzi no 4 r35 su questo ci ha fregato anche qui ho cambiato il cinturino ho messo questo aftermarket lo utilizzo sempre soprattutto in estate per andare al mare ma certo dove ci vuoi andare poi il mio seico preferito anche mio questo qua mi piace tantissimo bravo bello prospects è una serie di lettere e numeri bravo spb 14 3 j 1 certo ho cambiato il il cina ciale bravo anzi qui c'era un cinturino in acciaio ho messo questo bracciale waffle la zecchia che sostanzialmente mi ricorda tantissimo il primo diver della storia di seco del 1965 bravo da che ce la fa a parlare un po di più da basta silenzio cos'è quella lì domanda non lo sai va bene passo ma l'ultimo ultimo diver della collezione bravo citizen pro master classico qui c'era un braccialaccio terribile è suo sostituito con questo nato james bond bravo si vabbè da james bond te lo passo te lo appoggio se si nota c'è il il vetro graffiato però devo dire che è un orologio che ho da da più di dieci anni soldi ben spesi addirittura pensavo di comprare quello full loom hamilton o khaki field mechanical meccanico 8 mm nero era preso movimento h50 anche in questo ho cambiato il cinturino ho messo questo nato ma certo ci sta bene l'orologio mi è stato regalato da mia cugina e il cinturino da mio fratello bene scrocca ultimo hamilton pilot pioneer mechanical pilot pioneer mechanical 34 mm scusa 36 mm non ti sbagliare attenzione cinturino boh in pelle meno male diciamo ma è un cinturino che cambio cambio molto spesso molto spesso perché è terribile questo è quello che utilizzo di solito ma se ci sta bello un mattino mi piace dai finito no cavalli di battaglia della collezione parco giudetto che bello verde così dai just penso non occorre dire niente ma te sei bravo a non dire niente non ti preoccupare quadrante ipnotico ipnotica 36 mm acciaio oro oro bianco si ci piace eh mi piace questo qua questa versione qua devo dire che mi piace tantissimo bravo questo mi è arrivato recentemente bene sono contento per te comprato dove boh senza pagare un euro in più ah ok da beautic da beautic dai 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 e infine e infine il grey watch explorer top shhh explorer 39 mm ah referenza 21 42 70 eh come il mio forse è uno degli orologi più belli della collezione ma si dai basta dai su silenzio ma che come si vede eh come si può notare lì utilizzo gli orologi ma si fai bene eh è nulla davida grazie mille grazie a te del tempo dedicato e te l'ho dedicato volentieri love love 8 e 58 9 minuti durava questo video 9 minuti che sarebbero eh si sarebbe potuto condensare in 5 eh avendo una parlantina un pochino più fluente dicendo cose decenti no ma invece no tutte pause di silenzio per far vedere il loro silenzio e poi dopo dicevi perché chiedi che siano fatti in 7 minuti perché dovete sforzarvi di fare un'esposizione decente no altrimenti cosa stiamo a fare qua comunque la tua collezione gli do un 8 ora me la riguardo un attimino però l'8 te lo do eh me lo riguardo un attimino tatatatatatata e beh Legend Diver poi abbiamo il il Dejust l'Explorer i Seiki 5 i tanti Seiko Alpinist 2 Alpinist il Tuna l'SPB 143 ProMaster Hamilton Kaki Field Hamilton Pioneer 8 8 8 te lo meriti tutto perché si si spazia no dagli orologi economici no come può essere un Orient Maco fino al Dejust passando per gli Hamilton o per il Longin ah un bell'8 te lo meriti tutto eh al di là dell'esposizione sulla quale ti beccheresti un 4 però qua non facciamo la media perché se facciamo la media come orale e scritto no sai come si fa allora magari diventasse in totale invece no io ho 8 ti lascio quella del dello scritto perché dell'orale proprio non si è passato per niente comunque il litino inquisitore dice che sarà meglio che torni più preparato la prossima volta che poi se c'è da farci vedere questi belli orologi ben venga eh ben venga perché per l'amor del cielo te dici che preferisci l'Explorer 39 al Dejust 36 ecco ma il Dejust 36 io ho preso quello da 39 anche di Dejust perché si chiama Dejust 41 ma è 39.2 quindi te l'hai preso da 36 a volte mi viene voglia anche a me di puntare sul 36 come Dejust no però quando ho indosso quello da 39 vedo che mi sta bene quello lì che è bello presente come braccia le giubili quindi il 36 non non fa per me diciamo così però lo apprezzo lo apprezzo molto lo apprezzo molto il 6 coli il Prospex con la cassa del 62 mas è forse la migliore declinazione che c'è che hai scelto perché quella proprio quel quadrante nero senza indici guilt no senza i bordini d'oro senza gli accenti d'oro finto vintage è proprio quello perfetto quello che mi piace più di tutti dico sempre che mi piace poi non ce l'ho non ce l'ho mai avuto in collezione va bene va bene così dai sei promosso comunque eh belli orologi complimenti prossimo video ciao Davide ciao a tutti ragazzi grazie per questa possibilità che ci dai Davide Danilo D'Aleccio allora ti faccio vedere la mia collezione prima però ti dico che la mia collezione si compone in due parti la prima parte di orologi acquistati quando ero al buio prima di aver visto qualsiasi tuo video ma anche di la luce hai visto la luce e la seconda invece orologi che ho acquistato a seguito diciamo della formazione e tu ci fai su YouTube bravo la formazione io faccio formazione prima Ciofeca guarda Mabusen non so se si mette fuori qui ma perché è Quarzone quindi metterai il Ciofeca Alarm già messo però mi ricordo perfettamente quando ho comprato questo orologio a Milano le cose andavano bene al lavoro e avevo preso in questo negozio e una persona e volevo insomma prendere qualcosa anche per me mi è piaciuto devo dire mi piace come sta il polso un po' grandino forse nel calibro però mi è piaciuto e va bene qua è la pistola il calibro seconda Ciofeca Lorenz 500 metri non la do la Ciofeca no bello orologio ma l'ho pagato una sfondata di soldi rispetto a 890 euro 890 euro nel novembre 22 che forse eravamo già dopo l'aumento dopo l'inizio delle guerracce no magari si ma ascoltami ma io la Ciofeca non gliela do perché Lorenz è un marchio che è decente ha storia tutto quello che vuoi potrebbero fare molto meglio però è veramente la copia di un submariner quando queste case qua si mettono a voler fare cassetta a tutti i costi cosa significa? guadagnare più soldi possibile con il minimo sforzo gli altri si inventano le cose te le copi e ci fai dei soldi sopra in cassa 890 890 quanto sarà il ricarico lo posso fare anche io un orologio così da catalogo ci scrivo sopra Davide Cecchini e viene uguale a questo me li mandano me li spediscono nello scatolone e poi io ve li vendo a voi che ho scritto Davide Cecchini ti pagherò 50 euro l'uno 890 ci togli le tasse ci ho fatto il ricarico ci ho fatto sì ci si stava per fare dei po' di cassa utilizzando il design degli altri e sfruttando l'ignoranza dell'acquirente senza offesa perché te sei ignorante nel senso che ignori e come diceva quell'altro sei imbecille nel senso che imbelli no ignoranza sfruttano l'ignoranza dell'acquirente passione per vendergli un orologio così e andrebbero biasimati infatti col titino io li biasimo però la ciofeca non gliela posso dare perché vorrei dare una seconda possibilità a Lorenz in futuro di fare qualcosa di più decente però per adesso semi ciofeca alert diciamo così vale anche perché dimmi tu cosa ne pensi della Lorenz però praticamente non ho visto recensioni te l'ho detto ora è bello si però niente di che ma Submariner purtroppo avrei potuto spendere meglio il misoglio certo ora vendilo otteno il terzo è questo questo mi è piaciuto questo mi è piaciuto quando l'ho visto l'ho indossato anche qui ero nel negozio per un presente per mio fratello gli ho preso un orologio per i suoi 50 anni molto più bello di questo una edizione limitata però anche qui volevo qualcosa per me e questo mi è piaciuto e ti dico per quanto sia ciofeca eccetera metterlo al polso così a me piace mi piace vestire mi piace vestire questo orologio adesso ti faccio vedere quello che ho acquistato a seguito dei tuoi video perché mi sono appassionato molto alla storia di questa Maison è così e quindi ho trovato questo cronografo si vede perfettamente funzionante del 48 37 mm di carica manuale veramente veramente bello mi piace molto la storia di questo brand anche perché c'erano un paio di personaggi italiani coinvolti nella distribuzione che poi hanno fatto sercar eccetera quindi insomma mi è molto piaciuto l'ho preso e spero insomma che sto migliorando la mia collezione sarà lunga perché mi avete trasferito una scimmia incredibile veniamo all'ultimo orologio come l'ultimo? anche questo anche questo carica manuale sottilissimo bellissimo al polso anche questo è un 38 mm 80 micron di laminazione oro è pulito mi è piaciuto tanto pezzi di storia veramente cose incredibili sempre perfettamente funzionante anche questo e questa è la mia collezione ripeto è finita qui ma solo per il momento perché tu con i tuoi video e anche i ragazzi nei commenti mi avete trasferito una grande consapevolezza quella di non sapere niente di orologi spero di prendere una zenith stellina perché mi piace e un login per un admiral vediamo bravo un caro saluto a tutti ragazzi e grazie ancora un caro saluto e beh a un certo punto hai detto la mia collezione sarà lunghissima poi l'hai tirato fuori questo è l'ultimo c'è qualcosa che non va sono io che sono in bello oppure sarà lunghissima nel senso che ti auguri auspichi che in futuro avrai più orologi il tuo auspicio è quello della scimietta non è che sono molto differenti allora hai messo lì questi quattro orologi cinque orologi quanti erano? fammi un po' vedere ecco qua dove ci sono quelli finali sono cinque cinque di cui uno è un ciofecchissimo uno è un Lorenz e uno è un Bulova tutto placato oro oh e poi dopo c'è quei due vintage il Lanco cronografo e l'Omega l'Omega lì no è placato il camiciato in oro e la cosa che mi fa strano innanzitutto va bene sono contento della tua consapevolezza del fatto che ti piace anche hai iniziato un po' a studiare quindi ti stai mettendo sulla buona strada quando la passione si accende vuol dire che ce l'avevi già dentro come diceva Cicciolina è saltata fuori per un motivo o per l'altro c'è stato qualcosa che ha triggerato che ha fatto scaturire e quindi ce l'avevi già però sta andando verso il vintage perché è strano che uno un neofita così da zero inizia a comprare gli orologi vintage perché richiedono anche un pochino di studio pregresso nel senso di informare prima su cosa andrei a comprare non buttarsi così ora compro lo zenith stellina è un login admiral va bene più o meno siamo su due orologi sui quali puoi anche informarti a bizzeffe a bizzeffe nel senso che però devi informarti se devi saper scegliere vedere gli anni le annate non è come il vino le annate nel senso di come era fatto il quadrante in quegli anni lì eccetera eccetera se no vai un pochino la cecca poi dopo prima o poi la bruciatura la prendi eh pensiamo uno come te così magari si lanciasse prima nel nuovo nel secondo polso nuovo nell'entry level no uno si lancia così così assaggia e poi dopo decide vabbè ma è il vintage fai come vuoi però io a questa collezioncina qua tua ti tiro inquisitore non posso darti più di sei dai praticamente hai un paio di orologi vintage come si deve e poi dopo si va sul potrei evitarli ma non li ho evitati perché è come se mi fosse venuto un camion addosso diciamo così eh vabbè comunque sei promosso dai poi attendiamo perché ho visto che c'è la scatola lì con tutte le postazioni vuote e sicuramente quello è indice di voglio andare avanti e sarà un casino per il mio conto in banca comunque buon 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 quindi quindi alcuni bene è un orologio è un orologio è un orologio bravo è un orologio è un orologio che sarebbe un diverino che sarebbe un diverino però io più che come diver lo uso un po' come orologio da tutti i giorni ma si è diciamo è sobrio si è sportivo nel senso che c'è questa lunetta questa scusami questa ghiera ovviamente da diver però secondo me è abbastanza sobrio da poterlo usare anche come daily watch si questo è il mio daily watch nero si si questo qua può essere utilizzato anche come appunto e non capisco perché si devono usare il g-shock oppure l'orologio da cioè uno può utilizzare anche un bello orologio così per fare le cose che deve fare vabbè te lo usi come daily watch ora non è che voglio smentirti quindi lo usi come orologio giornaliero si dico nonostante essendo un diver è 200 metri può essere utilizzato tranquillamente come orologio sportivo da tutti i giorni perché perché non ha nessuno ha perlomeno questo poi ci sono anche le versioni con quadrante colorato questo qua con il quadrante nero e la ghiera color acciaio è veramente sobrio sobrio cioè non sembra nemmeno un diver sgargiante dalle forme eccezionali di ripeto l'unica cosa è un pochino lo spessore che lo penalizza a livello di indossarlo sotto una camicia come ti pare a te però a me piace questo orologio poi ne ho uno blu che è questo emilton pioneer aviation bla 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 che secondo me in colorazione blu con questo scinturino secondo me è molto carino si si l'hai azzeccata lo trovo proprio delizioso delizioso e poi questa la freschezza diciamo di vedere un fondello chiuso su un emilton meccanico si in effetti si è vero è notevole e questo mi piace molto bello sai e il mio terzo daily watch che è l'ultimo acquisto gentleman gentleman con quadrante verde diciamo è della seconda serie perché il quadrante verde è arrivato in un secondo momento e della seconda serie mi piace molto anche il fatto che ci siano queste croci questa croce diciamo sul quadrante che secondo me lo equilibra un po' si a livello di spazialità trovo più giusto che ci sia spazialità questa croce perché nelle altre versioni ad esempio ho visto ingerire le ria il blu senza questa croce e era un pochino vuoto diciamo secondo me il quadrante si ci sta eh hai ragione ci sta che quindi questi ti ho fatto vedere per ora i miei orologi più quotidiani e poi gli orologi che diciamo un pochino più speciali sono questo Hamilton Intramatic che mi sono fatto regalare per i miei 40 anni molto simile quasi Bauhaus diciamo però ecco appunto come era per i 40 anni volevo un qualcosa che diciamo non mi venisse mai a noia che fosse un po' eterno ecco sia come design che diciamo come questo è bello mi ricordo che l'ho preso di mira anch'io a suo tempo chiaramente la versione con il quadrante nero perché il bianco fatico 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 c'era una cosa che mi fermava perché tanto mi piaceva molto lo stile così no infatti poi presi ecco salto di pallone in frasca al suo posto presi lo Jung Ganz Meister che è come bracciale molto simile così tutto segmentato come stile Bauhaus è molto simile presi il Meister solo tempo questo lo scartai per un semplice motivo perché lo sapete ormai lo sapete non c'è la lancetta dei secondi quindi per me mi dava era insormontabile come scalino e presi lo Jung Ganz Meister però ora che magari mi sto un pochino più no non lo prenderei uguale senza lancetta dei secondi qua in questo caso qua non ce la farei ma vabbè portabilità poi ho questo Eberhard Champion preso scusa all'incontrario preso in offertissima da Pasquale Domenici che è fatto un bel acchiappo fatto un bel acchiappo quando ho messo in vendita questi qua bianchi così quelli neri quanto ne avete pagati mille mille qualcosa mille qualcosa un cronografo con il 77-53 della Eberhard 77-50 della Eber eh avete fatto un bel acchiappo questo è il mio crono sono molto soddisfatto anche di questo vabbè mi piace molto ci ho messo questo cinturino che secondo me tipo racing secondo me ci sta molto bene con questi colori degli accenti degli accenti verdi e poi ora mi è venuto a mente un discorso voi l'avete tu l'hai comprato poco più di mille ma se fra uno o due anni no lo rimetti in vendita no? ti stufi pensi di venderlo a meno di quanto l'hai pagato attenzione fate anche questo calcolo qua perché già ora i prezzi si sono alzati si alzeranno un cronografo così seminuovo quanto te lo vuoi far pagare è un bel po' poi per ultimo è l'unico vintage che ho ottenuto perché ho scoperto di apprezzare diciamo di più gli orologi moderni perché siccome ho proprio ridotto la collezione a 9 proprio perché mi piace avere degli orologi che posso portare tutti i giorni senza grossi problemi quindi alcuni vintage che avevo comprato li ho eliminati eliminati per far costo diciamo a questa collezione che vedi adesso l'unico vintage che ho ottenuto è questo mega devil in oro che era appartenuto al mio nonno e beh vorrei vedere che lo vendi molto bello secondo me e questo lo porto magari nelle occasioni un po' più particolari o quando sono in abito niente questa è la mia collezione vorrei sapere che ne pensi visto che insomma ci ho lavorato un po' per arrivare alla quadra di questi orologi che portavo e niente vorrei sapere cosa ne pensi e secondo te visto che sono nove e non è un bel numero mi piacerebbe di più magari un numero pari come il 10 secondo te data questa collezione che cosa aggiungeresti te come decimo orologio sempre rimanendo diciamo in un budget non oltre i mille mille e cinquecento euro grazie mille Davide e complimenti per il canale e per la community grazie grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te il 9 è brutto numero il 10 è più bello perché è un numero pari alla che la scimietta piacciono i numeri pari è proprio lei che dice il 10 è il numero perfetto te lo dice ora che sei a 9 poi vedrai quando sei a 10 cosa ti dice te le spara tutte te le sparo allora alla tua collezione ti do un bel 7 perché mi è piaciuta sinceramente mi è piaciuto tutto anche il percorso che hai fatto gli orologi che hai tenuto eh quelli che hai dato via non me li ricordo chiaramente però c'è tutti gli orologini che devono esserci in in collezione in collezione cioè una collezione come si deve ce li hai tutti guarda non avresti bisogno neppure di altri orologi lo sai no? nessuno di noi ha bisogno degli altri orologi però prima o poi arrivano mi chiedi anche un consiglio lì su cosa su cosa io direi guarda non un diver un diver perché di diver hai solamente il maco no? un diver un pochino magari di un livello superiore al maco è anche un pochino più sgargiante un pochino più che faccia da diver quindi intorno ai mille mille e cinque c'è il mondo c'è il mondo di orologi di diver mi viene in mente ora il mido ocean star quello con il calibro 72 che sarebbe letta 2892 che per mido è già un calibro di livello superiore non cassano i longjin per esempio quello lì c'è il mido ocean star da 39 che hanno fatto uscire ora oppure ci sono dei bellissimi tisu seastar anche colorati poi dovresti anche scegliere un marchio che non hai tisu magari ce l'hai già cosa puoi andare vulcan un bel vulcan un bel vulcan skin diver cioè c'è una marea di orologi cosa ti posso consigliare sei te che devi studiare cercare di capire dove come hai fatto finora cioè se sei arrivato a dare via degli orologi a eliminarli a eliminarli per rimanere a nove chiaramente nove con altri presi perché ne hai presi altri sai benissimo come si fa come funziona quindi stati io cioè ce ne sono talmente tanti di orologi belli intorno ai mille mille e cinque che io non posso dirti un orologio ora poi così non mi vengono nemmeno in mente cioè anche sei di secco di secco non ne hai magari non ti piacciono i secco bisogna dire anche che marchi ti piacciono cioè se non metti i paletti metti solamente il budget sinceramente non ti si può dare un consiglio dai ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto e oggi era la giornata dei tre video ne ho messi tre non è che si può sempre fare un'ora di puntatona no tre video accontentatevi di questi tre io mi accontento e ci vediamo alla prossima cosa si vuole la prossima quando è voi dire quando è la prossima si 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 oh ci vediamo qua su youtube quando lo voglio io il più spesso possibile va bene love ciao ciao